buongiorno benvenuti al quarto d'ora in diretta che anticipa il telegiornale delle 13 e 20 quest'oggi in questo spazio parleremo di animali lo faremo assieme ad ornella macor che fa parte dell'associazione muia veg ma anche se ho capito bene di altre associazioni animaliste che si trovano appunto che agiscono in città e come vedete il titolo è convivere con gli animali è possibile perché di questo vorremmo parlare anche alla luce di tutta una serie di novità che sono emerse in queste ultime settimane io direi però partiamo da un dato che a me un po' ha colpito nel senso che qualche giorno fa prima della notte di capodanno e uso le televisioni fare dei piccoli sondaggi eccetera insomma si fa sempre e molti triestini hanno espresso perplessità sui fuochi sui botti eccetera proprio perché dicono io ho un animale ma anche gente che non ha animali a casa si è detta contraria proprio perché dice gli animali si spaventano eccetera cos'è è una sensibilità maggiore sta crescendo fortunatamente sì perché il benessere animale in questo momento si sta un po' ampliando come discorso e non si parla più solamente di cani gatti quelli che io ho a casa noi non ci rendiamo conto della fauna salvatica quando io vado a sparare un petardo la fauna salvatica muore non ce la fanno e se poi vogliamo ancora ampliare di più il discorso andiamo su quanto inquina un petardo perché purtroppo i petardi inquinano contengono delle sostanze dannose per l'ambiente e questo è importante cominciare un attimino a comprendere l'ambiente che mi circonda gli animali che mi circondano e poi sì anche il mio animale domestico io ne ho uno a casa che sono da quattro giorni che non riesco a portarlo fuori di casa perché è il terrore folle perché purtroppo ci siamo ritrovati io abito a Muggia una piccola cittadina con sì io capisco a Muggia c'era l'ordinanza quando riguarda il fuoco e l'artificio di non spararle io capisco il divertimento per l'amore del cielo cioè siamo onesti e sono divertenti sì sì ecco però fanno male fanno male a noi fanno male all'ambiente fanno male alla fauna salvatica e fanno male ai nostri animali io ho visto ripeto come dire ho visto alla televisione quindi non ho sentito sul posto eccetera per cui è un'idea che mi che mi è venuta solo assistendo a queste cose su su youtube tra l'altro può essere che esistano dei qui parlo logicamente di quello che viene organizzato dal punto di vista pubblico no ma può essere che esistano dei dei fuochi d'artificio con delle con dei rumori meno sa perché glielo chiedo perché ho visto quelli che sono stati sparati a Londra ora si sa che gli inglesi per gli animali hanno una una concezione molto particolare insomma e nasce la consapevolezza animale molto più ecco e quindi tra di me tra me e me dicevo se a Londra fanno una cosa di questo genere significa che probabilmente è possibile perché esistono anche in italia li abbiamo fatti anche in tribù di Venezia Giulia ci sono c'è la possibilità di divertirsi senza danneggiare esatto perché no io sono per il divertimento dell'amore del cielo anzi però possiamo farlo possiamo divertirci benissimo noi umani senza fare del male a un animale che sia ripeto fauna salvatica anche perché noi ne abbiamo parlato con la nostra ospite con la veterinaria la la dottoressa rossi c'è tutto un problema che riguarda gli animali selvatici che anche loro logicamente sentono i botti eccetera hanno un udito molto più sviluppato del nostro anche un olfatto l'odore del petardo cioè io ho acceso a casa mia un incenso con suo consiglio del veterinario per non far sentire appunto il mio animale domestico l'odore che produce il petardo funzionato pochissimo sì 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 perché però lo sciocco però ero insieme con altri amici con altri animali quindi eravamo con le finestre chiuse tapparelle chiuse la cosa è andata bene e abbiamo già ripeto l'ordinario è stata abbastanza rispettata certo sì poi quell'altro quell'altro discorso che molto si è affrontato in questi in questi giorni ed è questa questo ammendamento alla finanziaria che adesso io vado un po' vado un po' come dire vado con la maniera vada pure con la maniera nel senso che in qualche modo autorizza la soppressione di alcuni esemplari insomma di fauna selvatica quando arrivano nell'immediatissima periferia della città oppure anche in centro ora noi a Trieste ci sono stati devo dire la verità degli episodi anche piuttosto seri un signore anziano è stato aggredito da 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 un cinghiale alcuni cinghiali si sono spinti fino nei giardini di una scuola eccetera in altre città segnatamente roma fa un pochettino più impressione vedere che ci sono lì sono assolutamente d'accordo lì come come la domanda è anche un'altra no perché ci sono così tanti cinghiali ok vogliamo parlare del fatto che sono stati reintrodotti dai cacciatori che dobbiamo parlarne di queste cose sono proliferati ma è ovvio non ci sono predatori naturali che è il lupo oppure non ce ne sono abbastanza o mi scusi non ci sono orsi lei vede orsi a Trieste no io se li vedessi no quindi è ovvio che sono proliferati e se che facciamo li sterminiamo tutti viva viva lo sterminio lì molti però il discorso capisco che è molto difficile io cammino e mi trovo un cinghiale mi passa per strada dico oh mamma un cinghiale ma lo capisco perfettamente però il discorso di andare lì avere il cacciatore dietro dietro di me che gli spara ma anche no la caccia non funziona non funziona senta senta no no pensiero personale siamo siamo qui caccia totale e assoluta non funziona nel caso specifico dei cinghiali molto spesso viene sottolineato anche che alcune persone ormai non credo più però dando loro da mangiare facendo trovare loro da mangiare certamente li avvicinano alla città e li disabituano alla non si dà alla fauna selvatica da mangiare no si dà molto semplice basta chiedere a un qualsiasi veterinario a un qualsiasi etologo però è una situazione sì perché piacciono a qualcuno può piacere a qualcuno ma uno lo fa anche probabilmente in perfetta buona fede ma certamente però è vero no non va fatto se qualcuno può dire magari se ho del del pane un po che mi avanza eccetera piuttosto però però si incentivo il loro scendere sì 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 questo è sempre più vicino noi stiamo erodendo perché noi stiamo e quindi glielo stiamo togliendo loro sono tanti perché è vero problema c'è qua bisogna parlarne questo sia ovvio che bisogna parlarne io non credo che vogliono andare lì con la doppietta funzioni perché io più ti uccido io più mi riproduco lo stesso lo stesso assessore alle politiche animaliste del comune di trieste qualche giorno fa ha espresso proprio tutta la sua perplessità sul sul tema perché dice qua è una sorta di doppietta selvaggia nel senso non ce ne rendiamo conto ma è una doppietta selvaggia ma si può tornare indietro per dire cioè nel senso non dando più me dando ascolto alla scienza quello che era veterinaria agli etologi ai comportamentalisti e a noi tutti nel senso di non erodere il territorio e riuscire a tornare a convivere con la fauna perché cioè per me è assolutamente impensabile entrare in un bosco sentire silenzio totale assoluto e non avere più niente anche perché senza animali non avremmo il bosco abbiamo andato meno a ricordarcelo è possibile bisogna dialogare cioè abbattere e uccidere senza per così perché così io sono convinta che risolvo il problema prima no però il dialogo sì il dialogo con la regione il dialogo con l'ispra il dialogo anche con questo nuovo governo deve essere fatto perché senza dialogo secondo me è comprensione e quindi passare dallo stato di ignoranza a uno stato di conoscenza secondo me è fondamentale se no non andiamo da nessuna parte resterò io a dire io caccia non funziona e tu caccia non funziona è sempre più vero no anche cioè è un dato sempre più incontrovertibile che comunque nel nostro paese a trieste poi c'è una sensibilità abbastanza spiccata per determinati per determinati problemi c'è gente poi anche che ancora prima che determinate regole venissero introdotte o siano applicate già le mette le mette in pratica sto pensando per esempio non vorrei limitare il discorso però già il fatto per esempio che qualcuno che porta spasso il cane porta con sé oltre che il sacchetto anche una bottiglia d'acqua per assolutamente fondamentale che poi dopo qualcuno anche bisogna usarla che bisogna avere rispetto per l'ambiente io l'animale domestico io raccolgo la sua deiezione punto non ci sono altre discussioni non c'è altro da dire io esco con una bottiglia d'acqua sono uscita l'altro giorno uguale so che farò ridere pioveva io mi sono dimificata di portare l'ombrello e avevo una bottiglia d'acqua e no ma perché significa perché perché devo rispettare anche chi non ha l'animale ma molto probabilmente non posso obbligarti ad amare molto probabilmente chi 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 considera anche chi non ha gli animali dimostra una maggiore considerazione proprio per gli animali cioè mette si crea un rispetto secondo me la cosa principale io rispetto io non ti obbligo ad amare un animale perché non posso farlo posso chiederti di rispettare questo sì lei nota anche lei che c'è una maggiore attenzione da parte anche di chi non ha animali io per esempio devo confessarlo non ho non mi sento a mio agio con con gli animali è un dato mio non non è che però per esempio l'idea quando si legge appunto di chi scarica i cani in autostrada forse adesso anche il cane è stato scaricato da una macchina è stato recuperato da alcuni volontari e poi io l'ho adottato e sardo viene dalla provincia di sassi ecco per fare per fare un esempio e anche anche queste opportunità poi sono le più belle no quelle di adottare ammetto però altro problema grosso di cui dovremmo cominciare a parlarne non solo sul territorio friulio venezia giulia è un randagismo che abbiamo 500 mila cani a randaggio in italia noi non rivediamo a trieste cioè almeno a quantomeno non 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 contiene molto il problema basta che lei si sposti un attimo purtroppo brutto doverlo dire dal centro sud del nostro paese e le cose cambiano completamente ci dovrebbe essere l'obbligo di sterilizzazione per conto mio un animale randaggio esattamente anche per perché cani randaggi fanno branco sono pericolosissimi lo sappiamo sì 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 noi non avendoli a trieste non cogliamo non cogliamo il problema ci sono molte associazioni molti volontari trieste è una città tra virgolette veramente animalista ci pensa io il cani a randaggio a trieste non lo vedo ed è stata anche fatta io mi ricordo parecchi anni fa a trieste un'incentivazione l'adozione per quanto riguarda il cane anziano il comune da buona mano molti veterinari hanno sterilizzato gratuitamente l'associazione nazionale protezione animali funziona molto bene sul territorio la stati ci sono il gattile di trieste funziona ci sono le realtà triestine e dal feriù di Venezia Giulia che funzionano veramente molto bene con persone veramente competenti che ci mettono l'anima sono lì sono nei canini tutto il gioco sono lì bisogna pulire le gabbie portarli fuori ci sono persone si può cambiare si può mi creda si può si può probabilmente adesso devo dire la verità anche anche con gente come lei si può cambiare nel senso dobbiamo parlare perché vedo che a differenza di tanti altri che magari avranno anche le le loro ragioni non è come dire totemica nel nell'affrontare il problema quindi vivo e mi relaziono con persone che tante volte non la pensano come me allora se io resto dalla mia parte del ponte e tu resti dalla tua parte non si va da nessuna parte che facciamo rimaniamo avanti così non ha senso e continuerò ad avere il cane a randaggio il gatto a randaggio continuerò ad avere il cinghiale continuerò ad avere le nutrie che nel riospo siamo state sterilizzate la nutria era volverina no? la nutria era una specie di castorino si si la volverina introdotto dagli allevamenti negli anni 80 e poi mollati dagli anni 80 e poi mollati c'è in un romanzo non ha più questo problema perché perché c'è stata una sinergia tra l'associazione moiaveg il comune di mugia ispra e impa le abbiamo sterilizzate facciamo così magari un giorno ci incontriamo a trieste in diretta e così proseguiamo mi farebbe molto piacere la nostra chiacchierata mi farebbe veramente molto piacere sarà interessante ringrazio della possibilità che mi avete dato qui oggi no grazie a lei di essere venuta da noi chiudiamo allora così la diretta ringraziando Ornella Macor dell'associazione moiaveg adesso la pubblicità poi il telegiornale delle 13 e 20 grazie buongiorno a tutti ben ritrovati con il telegiornale di telequattro sarà una piazza dove dominerà il verde il sindaco di piazza ha spiegato oggi in diretta come sarà l'area che prenderà il posto dell'ex caserma della polizia stradale a Roiano l'asilo pressoché ultimato e il parcheggio saranno inseriti in un contesto dove molto spazio sarà dato al verde pubblico vediamo un Roberto di piazza particolarmente soddisfatto stamani durante sveglia a trieste ha spiegato come sarà la piazza che a Roiano sta sorgendo al posto della caserma della polstrada sarà ha ribadito il sindaco un'area dove adonta di quanto si va dicendo e scrivendo dominerà il verde a partire dal tetto del parcheggio a due piani capacità cento posti macchina qua sopra adesso come vedete stanno impermeabilizzando perché dopo qua sopra viene un parco alberato vera messa la terra naturalmente così le persone che abitano attorno non avranno una piattaforma di cemento davanti come hanno scritto la scritta di piazza dipi cementificatore ma bensì dipi che porta alberi sul tetto del parcheggio poi saranno sistemati anche dei gazebo in modo da rendere l'area ancor più appetibile poi l'asilo che è quasi pronto e che fra l'altro per affrontare al meglio le sfide energetiche è dotato di un impianto fotovoltaico e di un cappotto esterno di 20 centimetri il sindaco ha inteso sottolineare subito la questione sicurezza ma anche rispondendo ai rilievi di chi evidentemente ha potuto dare un'occhiata solo all'esterno della struttura ha messo in chiaro e il caso di dirlo il fatto che l'asilo in grado di ospitare 60 bambini riceverà luce dalle finestre che danno sul cortile interno i bambini saranno al sicuro all'interno di questa struttura con molta luce come potete vedere all'interno ci sarà un giardino tutto verde e i bambini praticamente non usciranno mai e saranno sempre in sicurezza anche sul tetto dell'asilo saranno sistemate delle aree verdi c'è poi da sottolineare l'andamento dei lavori di sistemazione della volta del rio Martesin intervento a Cegas resosi necessario per sostenere il manto stradale che su di essa poggia parallelo alla risistemazione della piazza rallentato dalle condizioni atmosferiche purtroppo abbiamo avuto un mese di pioggia ma non è che la pioggia non ci ha consentito di lavorare esternamente no il problema era che il torrente era pieno d'acqua comunque stiamo andando avanti mancano questi ultimi sei metri che vedi poi viene gettato tutta la volta e la fine è eterno perché vedi che è tutto in cemento armato proseguono gli incontri di commiato del prefetto uscente annunziato Vardè che oggi è stato ricevuto dal sindaco di piazza il quale nel corso di una breve cerimonia in salotto azzurro ha consegnato il sigillo trecentesco e riconoscenza del lavoro svolto a Trieste nei 14 mesi in cui ha ricoperto la carica che fra qualche giorno passerà a Pietro Signoriello contestualmente il sindaco ha anche annunciato di aver ottenuto il nulla osta da parte dell'autorità portuale all'abbattimento della piscina terapeutica acqua marina rumors sui candidati triestini in consiglio regionale abbiamo fatto il punto seguendo quelle che sono le prime indiscrezioni riguardo ai nove candidati triestini che saranno inseriti in tutte le liste che correranno alle elezioni regionali sono nove i posti per i rappresentanti triestini in consiglio regionale nove nomi di esponenti locali che saranno inseriti nella lista di partiti e civiche e che correranno per il consiglio del Friuli Venezia Giulia in questo mandato che volge al termine i nove eletti giuliani sono Francesco Russo, Roberto Cosolini per il Partito Democratico Andrea Usai del Movimento 5 Stelle Igor Gabrovec della Slovenska Skupnost Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia Piero Camber di Forza Italia e i tre leghisti Danilo Slokar, Giuseppe Gersinici e Pierpaolo Roberti non tutti hanno proseguito la legislatura come consigliere chi per altri ruoli, chi per altri motivi ogni partito dunque inserirà nove candidati per il collegio triestino fra questi è probabile che si vedranno esponenti già in carica in consiglio comunale a Trieste o nei comuni della provincia andando a modificare equilibri e persone nei propri ruoli aprendo la strada e un possibile rimpasto di giunta di questo si parla nel caso in cui i nomi come quelli di Michele Lobianco, Carlo Grilli e Lisa Lodi dovessero ottenere un ruolo in piazza Oberdan se non anche nel palazzo di presidenza in casa Fratelli d'Italia si va verso la ricandidatura di Claudio Giacomelli e Antonio Lippolis in quanto consiglieri uscenti poi circolano i nomi del vice sindaco di Mugia Nicola del Conte e del consigliere a Duino Orisina Massimo Rumita occhio anche a Marcello Medau che a suon di raccolte firme a Trieste ha sempre dimostrato molta attività fra le donne la già menzionata Elisa Lodi assessore ai lavori pubblici a Trieste e la consigliera Caterina de Gavardo da definire se anche l'assessore regionale Fabio Scocimarro sarà della partita nelle fila degli azzurri di Forza Italia è nota la partecipazione dell'assessore Michele Lobianco e del consigliere Lorenzo Giorgi altri nomi in lizza sono l'ex sindaco di Duino Orisina Daniela Pallotta l'ex assessore all'educazione a Trieste Angela Brandi e poi sembra essere cimballo anche la richiesta di una ricandidatura di Piero Camber da parte del partito laddove però lo stesso Camber non ha ancora sciolto le riserve più complessa la situazione in casa Lega vista la presenza della lista Fedriga i nomi non mancano ma è ancora incerta la collocazione fra le due formazioni dei possibili candidati si fanno i nomi degli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Alessia Rosolen dei consiglieri uscenti Danilo Slokar Giuseppe Gersinic della consigliera triestina Manuela Deklic e della leghista di Duino Orisina Valentina Banco oltre a Carlo Grilli di cui abbiamo già parlato in casa Partito Democratico è quasi certa la riconferma nelle liste di Francesco Russo recordman di preferenza nel 2018 e Roberto Cosolini oltre a loro corrono le voci su Laura Famolari, Valentina Repini e Francesco Bussani in quota Muggia nulla trappela in casa Movimento 5 Stelle per gli altri partiti che si affacceranno al voto serviranno ancora un paio di settimane prima di poter avanzare nomi spendibili per la causa La cronaca adesso ha sparato colpi a salve nella tarda serata di ieri allarmando l'intero quartiere un uomo di 40 anni è stato denunciato vediamo Ha sparato colpi a salve con una pistola allarmando l'intero quartiere l'uomo un quarantenne di origine moldava sarà denunciato è successo ieri in zona barriera in via Madonnina l'episodio è avvenuto in tarda serata quando nella via si sono uditi forti colpi che hanno spaventato gli abitanti dello stabile e i residenti nelle vicinanze è scattata subito la chiamata al numero unico 112 sul posto sono giunte una pattuglia della polizia di stato e una dei carabinieri gli agenti e i militari hanno rilevato in pochi minuti l'origine degli spari individuando il quarantenne che a quanto si apprende era solo in casa e aveva iniziato a sparare con una pistola a salve una volta giunti faccia a faccia con l'uomo gli operatori delle forze dell'ordine hanno trovato sia la pistola con la quale il quarantenne ha sparato sia i colpi a saldo dunque privi di ogiva il responsabile del gesto verrà denunciato l'autorità giudiziaria ci spostiamo ora dalla polizia di stato di cui abbiamo appena visto le immagini nel servizio alla polizia locale per l'aggiornamento dell'ora di pranzo sulle questioni della viabilità cittadina buongiorno buongiorno a tutti i telespettatori la notizia dell'ultimo minuto c'è un pulma in avaria sulla grande viabilità triestina in direzione venezia all'altezza delle torri d'Europa perciò più o meno sopra la gaslini perciò attenzione chi dovesse transitare in blocco per il resto è mattinata abbastanza tranquilla il tempo è stato un po' anche dalla nostra parte finalmente anche se non si tratta proprio di una giornata soleggiata almeno non c'era la nebbia incidenti di rilievo non ne abbiamo avuti interventi soliti da parte delle nostre pattuglie interventi diciamo di routine abbastanza ripeto una giornata abbastanza tranquilla come quasi sempre dopo le festività ci sono dei lavori sono stati effettuati stamattina ancora dei lavori sulla linea elettrica dell'altezza dell'obelisco di Opicina avevamo nostre pattuglie sul posto in agenda noi abbiamo altre cose di particolari per il momento e quindi vi restituirei la linea grazie al commissario De Grazi buona giornata e buon lavoro buona giornata e buon lavoro proseguiamo una donna di 70 anni di età è stata soccorsa questa mattina dopo essersi sentita male lungo la viabilità di via Cadorna a Trieste andare ad andare l'allarme chiamando il 112 sono stati i passanti che l'hanno vista perdere i sensi la chiamata è stata transitata subito alla struttura operativa regionale per l'emergenza sanitaria e gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'automedica e di un'autoambulanza giunte proprio in via Cadorna le equip sanitarie hanno trovato la donna in arresto cardiocircolatorio e hanno avviato le manovre di rianimazione il cuore della donna ha ripreso a battere poi il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Cattinara 4 persone arrestate e 90 denunciate dalla polizia postale in Friuli Venezia Giulia sono i dati del report dell'attività del 2022 si registra un aumento dei casi connessi ad abusi su minori sentiamo 4 persone arrestate una per pedopornografia online e 3 per truffa e 90 persone denunciate dall'autorità giudiziaria per vari reati quali molestie stalking adescamento online truffe frodi informatiche pedopornografia furto estorsione attacchi e sistemi informatici è il bilancio dell'attività della polizia postale delle comunicazioni del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2022 complessivamente a livello nazionale e locale per i reati contro la persona in particolare contro i minori online si registra una lieve diminuzione dei casi trattati rispetto all'anno 2021 poiché sono state fatte meno denunce nonostante ciò è stato registrato un aumento dei soggetti individuati denunciati dalla polizia postale per abusi ai danni di minori tra le varie attività e di repressione di reati informatici da segnalare l'individuazione e la denuncia all'autorità giudiziaria dell'Hacker autore della manomissione della seduta online del Consiglio Comunale di Trieste del febbraio 2022 l'Hacker aveva diffuso immagini di soggetti che esibivano il logo di protesta della W nonché frasi provocatorie e difamatorie di chiaro orientamento Novax e No Green Pass rendendo di fatto impossibile la prosecuzione del Consiglio Comunale proprio in relazione agli attacchi informatici in Friuli Venezia e Giulia sono state fatte 17 denunce da parte delle aziende ma il dato è da considerare sottostimato per quanto riguarda il fenomeno di estorsione sessuale attraverso la rete nella regione sono stati trattati 10 casi di cui uno che ha coinvolto un minore la denominata operazione Luna invece sulla scorta di informazioni emerse riguardo un'indagine di un'altra operazione giudiziaria ha permesso di denunciare 32 persone di cui una a Trieste 7 delle quali minorenni e una è stata tratta in arresto un'altra operazione chiamata Revelatum si è conclusa con 72 indagati per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico in ambito nazionale e 3 di questi nell'area di Gorizia e Pordenone pagina meteo ora con la situazione generale a partire da domani giovedì fino a sabato l'influenza dell'anticiclone africano porterà ristagno di umidità nei bassi strati tuttavia venerdì mattina il temporaneo afflusso di correnti nord-occidentali più secche determinerà alcune schiarite per quanto riguarda oggi il cielo nel pomeriggio aumenta nel cielo del pomeriggio aumenterà la nuvolosità dalla costa fino alle prealpi e quindi cielo sarà variabile e passerà fino a nuvoloso sulla zona montana per domani invece su pienure costa cielo in prevalenza coperto con foschie sulla fascia orientale sarà possibile qualche più vigine sulla zona montana nubi basse nel fondo valle sotto i mille metri circa tempo migliore invece in quota vi ricordo sempre la possibilità di vedere i vostri preseppi e alberi di Natale al termine delle edizioni del telegiornale di Tele4 per avere questa possibilità contattateci allo 040 300 500 mandate direttamente i vostri video a redazione chiocciola tele4.it noi ci fermiamo qui per quanto concerne il telegiornale restate però con noi perché la programmazione di Tele4 continua un ringraziamento particolare a Francesco Gambarsi che è l'ospite di questo approfondimento solitamente dedicato allo sport ma oggi parliamo della programmazione del Teatro Stabile delle Friuli Venezia Giulia Francesco Gambarsi è il presidente del Teatro Stabile delle Friuli Venezia Giulia il Rossetti programmazione che noi abbiamo scritto si ricomincia anche se in realtà non c'è soluzione di continuità è giusto per come dire per stabilire che siamo già in pieno 2023 per quanto riguarda appunto il Rossetti fra l'altro faccio vedere questa se non mi sbaglio e sarà la nuova veste del del magazine del magazine che è diventato un mensile del magazine del Teatro Rossetti esatto questo è il secondo numero uscito il 31 di dicembre il numero di gennaio perfetto quindi questa è e anche qui c'è proprio tutta quanta la programmazione comprese anche le novità che vengono inserite diciamo quasi all'ultimo momento magari delle volte nemmeno voi siete in grado di inserirle perché insomma la programmazione è davvero è davvero intensa e ricominciamo il già domani con questo spettacolo un dono dei Re Magi che è un galà che avete protagonista Daniela Barcellona e Michele Campanella sta diventando un appuntamento di tradizione quasi beh è il secondo anno che viene fatto un appuntamento al quale teniamo molto nella fattispecie i Re Magi sono Daniela Barcellona appunto Michele Campanella e l'orchestra del Teatro Verdi che ci fanno e anche questo non è un dato da poco non è un dato da poco e anche questo tengo a sottolinearlo così questi due grandissimi artisti italiani Daniela e Triestina peraltro Michele Campanella arriva da Napoli e hanno così risposto all'appello e Daniela Barcellona già il secondo anno che lo fa all'appello della città direi per organizzare una grande serata a supporto del Burlo Garoforo l'anno scorso è stato un bellissimo successo la raccolta fondi ha consentito di acquistare un'apparecchiatura importante una Conbin per il reparto di radiologia del Burlo quest'anno l'attenzione è concentrata su un'apparecchiatura per il reparto di genetica la serata è domani alle 20.30 con un programma messo a punto da Alessandro Vitiello che dirigerà l'orchestra molto accattivante che spazierà da un concerto pianistico dedicato a Mozart eseguito appunto da Michele Campanella fino a tutta una serie di grandissime arie cantate da Daniela Barcellona e da alcune giovani cantanti soprano mezzo soprano con un excursus soprattutto dedicato al waltzer con un waltzer presi da grandi opere e si concluderà con un waltzer preso dallo schiaccianoci di Tchaikovsky tra l'altro alcune delle forse tutte quelle che affiancheranno la Barcellona adesso vado un po' come dire d'assonanza per quanto mi ricordo sono anche cantanti che hanno partecipato ad una masterclass che la Barcellona ha tenuto nella tarda estate esattamente sono dei giovani talenti che Daniela sempre con la consueta generosità sta coltivando e ci tiene così in qualche modo a valorizzare il talento di queste giovani e quindi questa serata sarà occasione per loro anche di dimostrare quanto valgono e quanto brave sono abbiamo sottolineato appunto questa partecipazione dell'orchestra del Teatro Verdi ribadisco un qualcosa alla quale noi ci teniamo molto perché così questa collaborazione tra teatri le riteniamo essere necessarie sul territorio e per il territorio c'è grande sintonia con Giuliano Polo così abbiamo vedute sicuramente simili c'è la volontà di fare qualcosa per la città per un territorio più allargato e quindi questo secondo me è un bel esempio di collaborazione come un bel esempio di collaborazione è quello tra i due più importanti service club a livello internazionale cioè il Rotary e il Lions che sostengono sin dall'origine questo progetto che ha avuto una genesi curiosa così simpatica perché è nato da una cena tra un gruppo di amici e il progetto si è sviluppato è cresciuto e quindi quest'anno trova la seconda puntata domani il 5 gennaio alle 20 e 30 rossetti e ripeto tutto l'incasso grazie anche al sostegno di alcuni sponsor andrà a sostegno del burlo garofoli di questo macchinario per il burlo subito dopo il 7 e l'8 gennaio ecco perché abbiamo come titolato da Barcellona da Porto nel senso che il 7 e l'8 gennaio sempre in sala assicurazioni generali arriva Massimo da Porto con anche Antonello Fassari in una pièce che è tratta da Labische quindi quando si parla di Labische si entra in territorio Pochad fine 800 eccetera qui c'è un'operazione fatta posso già immaginare con grande intelligenza da André Ruth Samma di trasposizione nell'Italia credo prefascista prefascista nell'Italia prefascista nell'Italia c'è anche la Marco Meni vedo nell'Italia del primo dopoguerra così si passa appunto dalla Francia ottocentesca all'Italia del primo novecento tu hai detto che è un'operazione intelligente della Chammà lo è sicuramente ha chiamato due interpreti anzi un gruppo di interpreti importanti lo spettacolo è tinto di noir ma così fa anche dell'ironia e del paradosso pescando nell'ipocrisia della classe borghese così un po' la sua cifra è bella ritengo che possa essere uno spettacolo assolutamente molto molto godibile e da vedere abbiamo un gennaio tutto molto ricco abbiamo chiuso un 2002 che ci ha dato un 2022 che ci ha dato grandissime soddisfazioni abbiamo ripreso veramente con grande energia nel 2023 con un gennaio che è praticamente senza soluzione di continuità per quanto riguarda l'offerta ospiteremo poi ricordo anche il film festival se non sbaglio dal 24 al 28 per poi riprendere la nostra attività e concludere il mese con il concerto di uno dei più importanti interpreti della musica italiana quindi torna anche quest'anno Rossetti Claudio Baglioni tra l'altro in gergo cinematografico magari non è elegante e quindi chiedo scusa però in gergo cinematografico c'è il film che viene definito sleeper cioè un film che come dire mantiene non è corretto neanche questo ma insomma che si comporta il botteghino mettiamola così meglio di quanto si pensasse una sorpresa adesso il riferimento è puramente così personale però quell'anno di scuola si sta rivelando adesso non voglio dire uno sleeper perché sembrerebbe proprio messo là così però veramente un qualche cosa di indovinatissimo diciamo anche di strepitoso perché probabilmente è uno spettacolo che riesce a mettere d'accordo anche generazioni diverse certamente lo è devo dire questa è un'indovinata operazione voluta dal nostro direttore Paolo Valerio di andare in qualche modo a recuperare Pescare nell'ambito dei grandi giacimenti culturali che la nostra città offre diciamo un mare io già so quello che è il prossimo ma non lo dico per correttezza è un mare molto pescoso quello di Trieste la mia coscienza mi impedisce di dirlo di anticiparlo benissimo la mia coscienza mi impedisce di anticiparlo nessuno ha capito peraltro quindi questo di quell'anno di scuola che nel titolo viene modifica leggermente l'opera di Stuparic è stata una piacevolissima non dico sorpresa perché noi ci aspettavamo il successo di questo spettacolo ma una piacevolissima conferma di quanto noi pensavamo con la regia di Alessandro Marinuzzi un gruppo di giovani attori di grande talento e così in questa rivisitazione di questo testo che ricordiamo è stato anche un film una pellicola cinematografica così ha fatto innamorare gli spettatori triestini tant'è che siamo stati così piacevolmente costretti a doverlo riproporre per dal 10 gennaio dal 10 al 15 gennaio in Sala Bartoli speriamo che anche questa riproposta così a qualche settimana di distanza dall'ultima rappresentazione possa incontrare il favore del pubblico ma siamo convinti che sarà così è anche uno spettacolo dove si innova io insomma uso sempre con attenzione questi termini perché magari insomma non vorrei spaventare eventualmente però mi dicevano che c'è un ritmo interno nello spettacolo che è qualche cosa di veramente prodigioso ed è probabilmente anche questo una delle ragioni per cui piace a un pubblico più giovane che magari insomma potrebbe essere anche come dire tenuto distante ma proprio perché si riesce a come dire a identificare tutti gli spettatori cioè ho sbagliato tutti i telespettatori ma tutti gli spettatori possono identificarsi con questi avvenimenti perché insomma a scuola è un momento formativo per tutti ma c'è anche questa attenzione a un ritmo interno che che non è da tutti ecco insomma direi che proprio il ritmo è la caratteristica principale di questo spettacolo è uno spettacolo dove è impossibile annoiarsi dove non c'hai un momento nemmeno per poterti distrarre è uno spettacolo che tiene attaccata l'attenzione del del pubblico in maniera molto molto concreta questo ritengo essere un lato decisamente positivo dell'interpretazione che Alessandro Malinuzzi ne ha dato ed è credo una delle chiavi del successo che ha avuto ci sono anche le produzioni del teatro stabile del Fiume Venezia Giulia che sono in tournée e anche qui da quanto da quanto leggo per esempio il mercante di Venezia si rivela una scelta azzeccatissima è un testo che l'abbiamo detto parecchie volte non è un testo semplice è un testo che si presta poi oltretutto a tutta una serie di interpretazioni più o meno autorizzate diciamo così però so che dappertutto dove viene proposto raccoglie un enorme successo ecco insomma sì siamo molto soddisfatti dell'accoglienza che ha avuto il mercante di Venezia devo dire che dopo averlo visto presentato in anteprima al festival Shakespeareano di Verona a luglio dopo averne seguito la Genesi sin dal primo momento personalmente non avevo nessun dubbio che l'accoglienza in maniera generalizzata sarebbe stata molto positiva ci sono stati molti tutto esaurito che in questo momento in giro per l'Italia non sono delle situazioni così frequenti grazie allo spettacolo diretto da Paolo Valerio e quindi devo dire che un motivo di particolare soddisfazione e d'orgoglio sapere che quanto prodotto da Rossetti dal teatro stabile di Venezia Giulia possa far riempire oltre che Rossetti anche tanti altri teatri in giro per l'Italia poi c'è ancora che circola la bottega del caffè riprende la tournée adesso riprende addirittura riprende la tournée la bottega del caffè anche questo diretto dal nostro direttore da Paolo Valerio con Michele Placido e attori con gli attori di riferimento del Rossetti e anche questo è uno spettacolo che è stato accolto molto bene tant'è appunto che c'è una ripresa in questa stagione e chissà che non ce ne sia una anche nella prossima perché è uno spettacolo che viene richiesto uno spettacolo che piace è uno spettacolo così che porta esporta il nome del teatro anch'esso in tutta Italia anche se vogliamo poi anche la bottega del caffè non è un testo fra i più simpatici di Goldoni cioè non è che sia cupo però voglio dire le tematiche che affronta qualche momento anche di cupezza indubbiamente è uno spettacolo brioso perché si 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 ma è uno spettacolo che ti fa anche riflettere ti mette in guardia su alcuni aspetti e sottolinea anche alcuni aspetti dell'animo umano in maniera alcuni cupi aspetti dell'animo umano in maniera così molto decise da dove un'altra produzione del teatro stabile è questo Pasolini Pound Odi e Tamo che anche questo si sta rivelando molto azzeccato neanche nell'idea di raccontare le figure di questi due poeti agli antipodi se vogliamo per politica e d'altro attraverso la compagna di uno e attraverso la figura di colui che fece in modo che venisse realizzata un'intervista televisiva tra Pasolini ed è curiosissimo però la famosa intervista di Pasolini a Pound che è sull'ipel tra l'altro si può anche vedere sì fatta a fine anni 60 a Venezia a casa di Pound si vedono nell'ambito dello spettacolo alcuni estratti di questa intervista e appunto lo spettacolo ripercorre in qualche modo la genesi di questa intervista e alcuni momenti topici Banni Ronsisvalle che era un giovane regista all'epoca viene impersonato da uno dei nostri attori appunto per confrontarsi con questa grande tematica un confronto che devo dire da brividi perché vedere due personaggi agli antipodi per idee ma due geni comunque della poesia della letteratura del novecento dove si nota anche in qualche modo il timore reverenziale di Pasolini nei confronti di Ezra Pound e il grandissimo rispetto di Pasolini nei confronti di Pound è una cosa che fa riflettere anche questa e Leonardo Petrillo che è il creatore regista dello spettacolo ha saputo che è un affabulatore non da pochi non da poco no certamente ha saputo veramente mettere insieme questi ingredienti che derivano appunto da questa storica intervista per creare uno spettacolo anch'esso molto molto interessante allora se gennaio è appunto si annuncia in questo modo febbraio e marzo è ancora peggio per quanto riguarda diciamo il numero di però avercene insomma di spettacoli come questi io volevo chiudere perché mi sembra mi sembra doveroso parlando di tutte quelle persone che lavorano al teatro stabile e che lavorano appunto dietro le quinte io ho avuto la possibilità boh vabbè io per certi aspetti sono più dietro le quinte presto che sul che in platea per tutta una serie di cose le interviste e ogni tanto anche sul palco e ogni tanto anche sul palco e lì mi scateno ma quindi insomma conosco un pochettino tutto quanto quello che succede dietro le quinte e non lo dico io lo dicono tutti quelli che vengono al 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 Politeama Rossetti al teatro stabile del Fiori Venezia Giulia c'è una un il gruppo di tecnici il tutti quelli che diciamo le sarte la chi lavora dietro le quinte l'ufficio stampa tutti quelli che lavorano affinché effettivamente si possa andare in scena e fanno un lavoro eccellente è una piccola squadra perché i Rossetti non può contare su un numero enorme di dipendenti ma sono persone che lavorano con grande competenza grande amore questo ce lo sentiamo dire da tutte le compagnie che vengono a Trieste ma quello che sottolino è anche la velocità di questo lavoro ovvero sia per potersi permettere di ospitare magari nell'ambito di una settimana quattro spettacoli diversi non è una roba da portare questo significa anche montaggi e smontaggi il lavoro di promozione il lavoro di ufficio stampa e quindi è un lavoro continuo senza soluzione senza soluzione di continuità ma non soltanto per quello che si vede sul palcoscenico quello che si vede sul palcoscenico non potrebbe avvenire se non ci fosse tutta questa squadra dietro poi credo che ci siano addirittura adesso non per dire ma penso che ci siano in amministrazione della gente che io non ho mai visto penso di sì perché magari quando io arrivo poi loro hanno già concluso insomma è un gruppo veramente molto salutiamo anche le maschere perché poi dopo non dobbiamo dimenticare che anche l'accoglienza poi adesso avete dato anche una giacca una divisa nuova che io aspetto perché voglio una anch'io ma c'è stata chiesta da tante persone ho già avuto 3-4 persone che mi hanno chiesto ma dove si può acquistare la giacca sono talmente eleganti con questa giacca bluette che ricorda che tra l'altro è un colore che ricorda il teatro sì certo così è una tenuta che devo dire ho avuto fortemente io l'ho un po' ideata io nella sua nella sua forma e così sono soddisfatto di come di quello che è il risultato sono ancora più identificabili anche perché è necessario la maschera è necessaria che venga identificata ma è anche la nostra prima interfaccia nei confronti del pubblico e quindi il pubblico quando arriva a teatro è giusto che venga accolto sempre e comunque nel migliore dei modi tra l'altro ripeto voi non avete idea ed è bellissimo tutti quelli che si occupano di teatro dovrebbero fare un'esperienza dietro le quinte proprio per capire anche determinati meccanismi che cosa sono i tempi è un'avventura veramente molto 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 piacevole ecco insomma allora non logicamente non anticipiamo nulla ma immagino perché questo è un altro dato da tenere in considerazione che mentre è in corso una stagione si sta pensando già alla stagione successiva se non in alcuni casi addirittura a opzionare degli spettacoli per la stagione ancora ventura rispetto a quella successiva abbiamo già delle opzioni di spettacoli molto importanti produzioni internazionali che hanno delle tempistiche anche diverse già per il 2025 per il 2026 quindi assolutamente si lavora con grande anticipo la stagione prossima la 23-24 è in fase di avanzata programmazione sarà una grandissima stagione anche anche la prossima e quindi sì come giustamente dicevi i tempi nel teatro sono sempre molto anticipati tra l'altro c'è sempre anche poi la necessità di collegare il per esempio vedo che il film un anno di scuola di cui discutevamo prima e che a sua volta è tratto dal racconto di Stuparich da cui è tratto un anno quell'anno di scuola verrà programmato venerdì 13 gennaio quindi la prossima settimana il prossimo venerdì alle 15.30 al cinema Alisson cioè c'è anche la necessità poi di come dire fare in modo che il teatro esca dal teatro praticamente ed è un dato anche in questo caso fondamentale per certi versi ma è una cosa che noi cerchiamo di fare con una certa frequenza questo è un esempio appunto di mettere in pratica questo principio del teatro fuori dal teatro abbiamo un teatro meraviglioso però riteniamo che qualsiasi iniziativa riesca a portare il Rossetti anche al di fuori delle proprie mura possa essere così un'iniziativa a vantaggio della comunità il Rossetti popolarissimo molto conosciuto però c'è ancora qualcuno che magari non lo conosce magari non è mai entrato sono molto pochi credo i triestini che non sono mai entrati a Rossetti però anche queste iniziative come proporre al cinema il film in preparazione dello spettacolo va in questa direzione grazie a Francesco Granbassi presidente del teatro stabile del fiore Venezia Giulia grazie a voi Rossetti buon lavoro buon lavoro a tutto lo staff e buon lavoro anche allo staff di tutti i teatri triestini noi ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta grazie a tutti